Sono Chiara Cordeschi e sono un'artista visiva di 24 anni che da diverso tempo utilizza l'autoritratto fotografico come cellula del suo lavoro. Sono nata e cresciuta in Sardegna, ma da qualche anno ho deciso di trapiantarmi a Milano dove attualmente vivo e lavoro. La fotografia per me è prima di tutto un atto mentale. Il fotografare mi ha insegnato a pensare per immagini, anche quando l'oggetto finale non è una fotografia in sé per sé, ma un oggetto più complesso o un condensato di elementi che trovano nella fotografia uno spazio risolutivo. Negli anni passati l'ho utilizzata per documentare azioni realizzate sul corpo o con il corpo, come delle piccole performance per la macchina fotografica. Questo mezzo mi ha permesso di trascorrere momenti molto preziosi come stessa, che si sono declinati in una specie di arte-terapia personale, che ho poi trasportato anche su un piano familiare, mettendo letteralmente insieme i pezzi che compongono la mia personale storia femminile. Fotografare per me è un processo di gestazione, per questo disegno spesso e prendo appunti. Mi aiuta a ragionare e a vedere meglio quello che verrà. Ciò su cui sto lavorando attualmente è un progetto che verrà presentato a settembre alla Galleria Hinterland di Vienna. per una mostra personale curata dal messicano Oscar Sanchez. Il lavoro che sto portando avanti analizza il rapporto fra uomo, natura e immagini. Attraverso meccanismi di proiezione e analogia, sia concettuali che visivi, cerco di ottenere delle forme ibride che possono empatizzare con lo spettatore. Il corpo è presentato e mixato con elementi naturali e organici. L'intento è quello di proporre un avvicinamento alla natura in senso vitale, quasi primitivo, scavalcando le gravi problematiche ambientali che ci siamo creati da soli. Sono convinta che l'empatia, ma questo in tutti i campi della vita, possa generare una presa di coscienza più profonda, producendo soluzioni da sé. In Arboreal la fotografia utilizza i eterogenei, per lo più scultorei, ma anche organici. Queste proiezioni corporee sono operate direttamente dalla luce del sole sulle foglie o dall'azione della natura sui tronchi d'albero. Ciò che mi affascina è pensare che non esiste una linea di confine netta tra umano e non umano. Mi piacerebbe invitare le persone a immaginare la fotografia come uno spazio fluido e versatile, a concepire le immagini come esseri poliedrici, reali e non reali allo stesso tempo, modellate da noi oppure trovate. Credo che la fotografia sia fortemente imparentata con tutte le altre discipline artistiche. Il suo tratto peculiare è che ruba sempre qualcosa alla realtà per costruirne una nuova.